3 spettatori ben ritrovati con l'informazione di Telediogene, cresce la rabbia e il disagio tra i dipendenti della provincia di Crotone senza stipendio ormai da 4 mesi. E la banca tarda a dare la risposta, stiamo parlando della questione dei lavoratori della provincia, anche oggi sono qui presso la sede dell'ente in attesa, come un detenuto in attesa di giudizio, il giudizio è la risposta che deve arrivare dalla banca che sono ormai quasi mezzogiorno e ancora non è arrivato. Mi auguro che arrivi questa risposta perché come tu hai visto poco fa dentro, i lavoratori sono ancora più agitati e disperati. Gli animi sono accessi? Sono accessi, sì, sì. Quindi non riusciamo più a gestirla la situazione, quindi io credo che da qui a mezz'ora, tra un'ora, mezz'ora, non so cosa possa succedere, quindi non lo so, neanche io. C'era stato però questo impegno della banca a pagare un'anticipazione? Un'anticipazione, ma quella proposta fatta da loro è una proposta che non risolve il nostro problema. Un milione di euro? Un milione di euro, no. E' minimo rispetto a quello che noi abbiamo chiesto, che c'è bisogno di portare avanti un ente, di pagare gli stipendi, ma non solo, di fare il minimo, almeno il minimo di quello che ci consente di avere per far partire questa macchina amministrativa. Il minimo stiamo parlando, eh? Comprare toner, carta. Perché adesso siete qui, ma non potete svolgere la vostra attività. No, 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 no. Timbrate regolarmente, state alle ore di lavoro che vi spezzano, ma non svolgete nessuna attività, perché non avete il materiale per agire, per lavorare. C'è il materiale umano? Ma non quello materiale, il materiale materiale. Materiale materiale, che ci serve per far... Ok, grazie a voi della stampa che ci siete vicino e con le vostre telecamere portate la nostra disperazione nel... Nelle case della gente. Sì, grazie, grazie. Politica locale, creata una nuova lista svolta democratica a Crotone e il Partito Democratico si innervosisce. Occorre un chiarimento. Un chiarimento tra chi si candida nel PD, nella lista del PD ufficiale, e chi si candida nelle altre liste di appoggio. Mario Megni, attuale vice sindaco della città, si candida con una lista che si chiama Ciconte, perché la vuole l'ex vicepresidente della Giunta regionale calabrese, che a Crotone sta dando vita ad una lista propria, dove c'è Mario... e i rapporti tra questa lista e il PD ufficiale non sono molto buoni. Mario Megni, che sta succedendo? Anzitutto la lista, la nomenclatura esatta è svolta democratica a Crotone. Diciamo Ciconte per fare capire... Sì, che è un personaggio della politica regionale, visto che ha avuto anche nel recentissimo passato la carica di vicepresidente di questa attuale Giunta regionale, sta avendo un ruolo molto importante sul territorio perché sta lavorando allacremente a comporre una lista di candidati che vadano al supporto del centro-sinistra, e quindi anche del PD. Non è al di fuori del PD questa lista, rafforza il PD, no? Rafforza il PD, assolutamente, siamo parte integrante del PD, è importante sottolineare l'impegno di un politico catanzarese che viene a Crotone a svolgere un ruolo importante. Megna, mi scusi. Allora, perché c'è questo problema? Perché quelli del PD temono che questa lista che state componendo voi sia più forte di quella del partito, e quindi stanno cercando di togliere qualche elemento e questa è la cosa. Guardi, io non parlerei di problema perché eventualmente ci può essere qualche frentendimento con qualcuno del PD, ma il frentendimento si supera nel momento in cui, io le dico, che gli eventuali consiglieri comunali che verranno eletti nella lista svolta democratica e quindi nella lista di Ciconto, entrando a far parte del gruppo del PD, non c'è un gruppo a sé, non c'è un gruppo consigliare di svolta democratica, ma c'è, alla fine, quando sarete eletti, chi sarà eletto, farà parte del gruppo del PD. Rientrano nella scuola del PD a tutti gli effetti. Però se voi siete più forti, non fate fare una bella figura a quella del PD. Io non credo che insomma siamo più forti del PD perché immagino che il PD sarà la prima lista, ma tuttavia insomma questo gruppo di lavoro ci tiene a ben figurare e anche chi lo guida, che è posto nella centralità di questo progetto, ci tiene a ben figurare e questo gli fa onore. Io personalmente faccio un plasso davvero a Enzo Ciconto e quindi anche al governatore della Calabria, Mario Oliverio, che immagino sia in sinergia, in piena sintesi appunto con Enzo Ciconto e quindi ben venga questo impegno catanzarese, diciamolo così, sul territorio che assolutamente, diciamo, giova il progetto del centro-sinistra, la centralità del progetto è quello di far vincere ancora il centro-sinistra attraverso appunto la candidatura di Rosa Barbieri. Altre discussioni non ce ne devono essere, non ce ne saranno. Se c'è qualche eventuale fraintendimento, lo voglio superare appunto con questa mia esternazione, se basta, se non dovesse bastare insomma il problema è un pochettino di chi pone delle questioni che non devono esistere e che non possono esistere. L'avete capito? Insomma, anche se lui fa il politico, Mario Megna fa il politico, però il problema c'è. Nel PD sono preoccupati che la lista di Ciconte possa superarli in curva. Si avvicinano le elezioni per eleggere tra l'altro il nuovo sindaco di Crotone e intanto Vallone tira i remi in barca. Da quando la politica ha scelto i candidati per il comune il sindaco Peppino Vallone ha tirato i remi in barca. Non viene più, viene pochissimo, viene visto pochissimo al comune. Non si fanno giunte, ci sarebbe bisogno, secondo quello che ci hanno riferito, di fare una giunta, ma non c'è la disponibilità, la presenza fisica di Vallone. Sarà che lui non ha condiviso nemmeno la scelta dei candidati, è una cosa che ha subito, non lo ha mai nascosto, lo ha detto anche nella direzione del partito e quindi sta un po' abbandonando la nave. Predilige andare di più alla provincia, dove però i problemi non mancano. La vicenda del mancato pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori della provincia è una questione che sta seguendo in prima persona e non è di facile soluzione. Predilige stare lì dove c'è davvero la battaglia e non qui dove potrebbe stare più tranquillo. Qui non viene più, evidentemente si è già allontanato con la testa dal Palazzo Comunale. Il Governo annulli l'aumento della tassa municipale per i passeggeri degli aeroporti italiani passata da 6,50 euro a 9 euro e Ryanair valuterà di annullare gli annunciati tagli di rotte e traffico su Alghero, Pescara e Crotone. Lo ha detto l'AD di Ryanair in una conferenza stampa a Milano sulla questione. Ha spiegato abbiamo avuto un incontro positivo con il Ministro Graziano Del Rio che ha mostrato apertura verso il taglio della tassa e la possibilità di ridisegnare le linee guida aeroportuali che impediscono agli aeroporti italiani regionali e delle isole di competere con gli aeroporti delle principali città. Dopo le polemiche che hanno investito Marilina Intrieri e il nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria il sociologo Antonio Marziale nominato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto. Da ieri Marilina Intrieri non è più garante regionale per l'infanzia. La polemica scoppiata all'indomani della notizia che la Regione avrebbe perso decine di milioni di euro per colpa del garante Marilina Intrieri ovviamente ha replicato dicendo che il garante non aveva nessun potere progettuale ma aveva solo un potere di controllo questa polemica comunque ha portato alla nomina del nuovo garante che è il sociologo Antonio Marziale perché era stata sollevata questa polemica a sollevare intanto era stato il Corriere della Calabria online che aveva già posto il problema di Marilina Intrieri a maggio del 2015 era scaduto il suo contratto quindi la Regione Calabria avrebbe dovuto rinnovare questo contratto non l'ha fatto e Marilina Intrieri è rimasta al suo posto fino a quando fino a ieri cioè fino a quando il Nicola Irto il Presidente del Consiglio perché è una sua competenza il Presidente del Consiglio regionale calabrese ha nominato un nuovo garante che è il sociologo Antonio Marziale ed ora qualche secondo di pubblicità Rendere pulita la città è il nostro lavoro ma per tenerla pulita serve anche il tuo aiuto Crotone di tutti collaboriamo a renderla più vivibile una città più pulita è una città più accogliente aiutaci anche tu a rendere Crotone più bella Acrea da sempre al servizio dei cittadini studio ben in casa agenzia immobiliare vendita appartamenti e villette affitti stagionali anche settimanali progettazione accertamenti catastali ipotecari e di proprietà dia e scia certificazione energetica designer interni e allestimenti vetrine inoltre studio ben in casa immobiliare mette a disposizione la propria esperienza alla progettazione di eventi studio ben in casa agenzia immobiliare in Viale Aldomoro numero 116 a Rocca di Neto visita la nostra pagina facebook studio ben in casa agenzia immobiliare a Reggio Emilia la guardia di finanza ha sequestrato 4,4 milioni di euro di Benia un imprenditore edile originario di Cutro Carmine Cappa di 73 anni residente a Reggio Emilia poiché i possedimenti sono ritenuti il provento dell'attività illecita di false fatturazioni l'uomo è stato anche denunciato per evasione fiscale nel sequestro preventivo disposto dal collegio del Tribunale di Reggio Emilia sono finiti 38 immobili tra appartamenti box e garage una ditta individuale tre veicoli sei conti in banca una polizza assicurativa tre portafogli di titoli e una cassetta di sicurezza contenente gioielli ed ora con il sindaco di Cotronei Nicola Belcastro parliamo di olio d'oliva e politica Nicola Belcastro allora venerdì c'è un'iniziativa importantissima a Cotronei che riguarda l'olio Cotronei è una delle città dell'olio della Calabria certamente e riguarda la ennesima edizione la quarta nel nostro caso specifico del premio Giulio Verga il premio dell'olio che è in sostanza un concorso vero e proprio fra i diversi oli del meridione d'Italia nel nostro caso quest'anno ci sono stati 45 oli che hanno partecipato tra le regioni Sicilia Calabria Basilicata Puglia e Campania per cui di tutto il meridione d'Italia questi 45 oli sono stati oggetto di una valutazione da parte di un panel test che è in sostanza lo strumento che viene ad essere utilizzato da parte degli assaggiatori per decidere le qualità organolettiche e gustative dell'olio stesso coordinati direttamente dal dottor Orlando un esperto del settore facendo parte dell'arsa della regione Calabria i quali hanno fatto questo tipo di selezione in occasione del giorno 22 dov'è che faremo anche un convegno sul nuovo PSR nuovo piano di sviluppo rurale della Calabria dove parteciperà il direttore generale dell'agricoltura il consigliere regionale delegato Mauro Dacri gli onorevoli Stumpo Nicodemo Oliverio e concluderà il presidente della regione Mario Oliverio e ci sarà anche l'occasione di fare una premiazione quest'anno abbiamo voluto introdurre un elemento nuovo cioè l'utilizzazione forte dal punto di vista interno gastronomico dell'olio è un prodotto diciamo l'olio che viene ad essere utilizzato in maniera larga e diffusa ma l'olio d'oliva acquista un particolare significato specie nelle nostre realtà per cui noi abbiamo creato un menu con la valorizzazione di quelli che sono gli oli del nostro territorio che abbiamo offerto per quanto riguarda tutti quanti gli ristoratori dell'area montana dell'asile nostra che nel periodo estivo offriranno questo menu all'interno di quelle che sono le loro offerte enogastronomiche che faranno che prevede l'utilizzo esclusivo dell'olio d'oliva si l'utilizzo esclusivo dell'olio d'oliva ma che valorizza anche l'olio stesso per cui sono dei prodotti l'olio d'oliva prodotto da noi da noi si non l'olio tunisino per comprenderci non l'olio extra comunitario l'olio nostro con i prodotti nostri per cui la patata silana il maialino nero le altre la trota gli altri elementi che sono del nostro territorio pertanto un'offerta nell'occasione ci sarà anche uno chef stellato di primaria rilevanza calabrese anche Giorgio Trovato che verrà a illustrare questo tipo di menu e cogliere l'occasione anche per fare una sorta di disagra di degustazione in maniera più larga di quelle che saranno le attività mi corre l'obbligo di ringraziare in questo quadro il GAL per il particolare particolare attenzione che ha sempre avuto modo di dimostrare la regione Calabria per la collaborazione straordinaria che quest'anno ha avuto modo di offrire e i tanti partecipanti 45 di tutte le regioni non è semplice trovarli per cui 45 oli che imbottigliano e non 45 produttori che fanno l'olio sfuso pertanto una attenzione particolare un'altra bella tappa e un'altra bella occasione per valorizzare il nostro territorio questa dovrebbe essere l'ultima della prima consigliatura di Nicola Belcastro o ce ne sono altre? come premio dell'olio sicuramente è l'ultima l'ultima delle iniziative perché poi tra qualche settimana siamo già in campagna elettorale l'amministrazione finisce di operare non ha più la possibilità di operare no vabbè noi facciamo queste iniziative poi il 29 faremo anche un'iniziativa su quelli che sono i nuovi fondi comunitari le attività produttive con l'assessore Barbalace e l'ex presidente del consiglio regionale della regione Calabria Torino Scalzo anche quella è un'occasione per divulgare le opportunità che ci possono essere dopodiché mi pare normale che sia campagna elettorale come va questa campagna elettorale come si presenta a Crotone un po' in sordina a Cotronei com'è la campagna elettorale? a Cotronei la normale attività c'è un'amministrazione uscente che ha avuto il plauso il supporto di tutto quanto l'aria che l'ha fatta nasce il centro-sinistra il PD in testa si ripropone la mia candidatura come un'opportunità che viene ad essere fatta ritengo che i cinque anni di governo che abbiamo avuto a fare in modo di amministrare insieme con una squadra straordinaria di consiglieri e di assessori che voglio singolarmente ringraziare che abbiamo fatto tanto ritengo pertanto dover dire in maniera senza peli sulla lingua di aver che abbiamo svolto un'attività amministrativa molto positiva e questo molto positiva è giusto ora che sia valutata da parte dei cittadini i quali mi auguro con la massima serenità e con la determinazione necessaria facciano le scelte oggi serve avere una idea della politica di che cosa fare dove portare chi si candida il proprio paese non serve né il giochetto del rancore né altro in questo momento in questo momento c'è bisogno di avere la stabilità necessaria in quel controllo è un livello di stabilità di serenità in questi cinque anni siamo riusciti a darlo e come? La campagna elettorale però qualche come fibrillazione in famiglia in famiglia c'è in famiglia vi riferisco al candidato a Pietro Secreti che viene dal suo partito sì ci sono discussioni ufficializzazione di candidatura al momento non ne abbiamo da nessuna parte la mia candidatura diciamo è quella formale c'è una discussione in essere che possa riguardare la costituzione di due tre quattro liste poi l'obiettivo potrà essere realizzato non realizzato starà alla valutazione di ognuno ma non è questo in discussione io ritengo che il dato che mi preoccupa è quando è che vedo totalmente l'assenza della politica chiunque si candida in alternativa al centro-sinistra che ha fatto una scelta anche insieme con l'UDC insieme con Sinistra Italiana Rifondazione e quant'altro che ha sostegno mio dall'altra parte si ha tutti quanti delle proposte o chi dice di doversi candidare fuori da ogni logica di partito mettiamo dentro il diavolo e l'acqua santa giusto per fare una lista ma poi il dato drammatico è che quando manca l'idea della proposta e il tutto si riassume solamente nella logica della contrapposizione per interessi anche legittimi quando parlo di interessi non è che parlo di interessi illegitti interessi rancori e quant'altro non si va da nessuna parte si fa solamente un pessimo servizio per la propria comunità forse un buon servizio per se stesso ma un pessimo servizio per la comunità stamane presso la Lega Navale di Crotone nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro Istituto Nautico Ciliberto Lega Navale di Crotone si è tenuta una esercitazione antincendio con i vigi del fuoco del comando provinciale di Crotone l'ufficio scolastico regionale e la capitaneria di Porto di Crotone Claudio Cavallini stamattina avete avuto a che fare con il mondo della scuola con i ragazzi dell'Istituto Nautico Ciliberto e avete fatto un'esercitazione per dimostrare come si spegne un incendio c'è di mezzo anche la capitaneria di Porto insieme a voi sì effettivamente stamattina siamo impegnati con i ragazzi dell'Istituto Nautico ma per noi è quotidianità essere impegnati appunto con i ragazzi con i giovani sia essi delle scuole superiori scuole medie elementari e perfino delle scuole materne per quanto riguarda la sicurezza in senso lato e anche con dimostrazioni di questo genere quindi è un piacere oggi essere qui sulla Lega Navale per appunto per stare insieme i giovani e far vedere un po' della nostra attività attività che i Vigili del Fuoco fanno quotidianamente non in maniera semplicistica come avete dimostrato ora ma rischiando anche la vita salvando la vita degli altri la realtà è ben diversa da queste simulazioni magari fosse tutta rose e fiori così come abbiamo fatto quest'oggi beh la realtà voi sapete e poi non è solo l'ingendio ma sono i mille diecimila pericoli che possono esserci nella vita quotidiana in tutti i giorni anzi più si va avanti nel tempo più i pericoli aumentano e la nostra professionalità è chiamata a dare una risposta concreta e rapida a quelle che sono le esigenze dei cittadini nella realtà nella fantasia i Vigili del Fuoco ci sono sempre noi ci siamo sempre e ci saremo sempre grazie presentato giovedì scorso presso la sala consigliare del comune di Grotone nel corso dell'incontro la riforma della magistratura onoraria il libro del magistrato onorario del tribunale di Grotone Maria Barbara Ceminara dal titolo al servizio dell'ingiustizia italiana l'altro volto della magistratura lo Stato secondo il magistrato ha negato e continua a negare ogni forma di diritto alla categoria in questione non c'è un divario tra il giudice onorario e il giudice togato solo nella retribuzione ma anche in quelli che sono i diritti più elementari di ogni lavoratore come la previdenza la maternità e l'assistenza se il tribunale ha mezzi e l'energia vogliamo che nel tribunale delle acque ci siano dei giudici esterni che siano specialisti della materia e degli esterni dottori che vengono stammane presso il palazzetto dello sport pallacolo di crotone si è disputata la prima partita amichevole di calcio a 5 tra gli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di crotone e gli ospiti del centro spar progetto provincia di crotone sito in località sovereto di isola capolizzuto e gestito dalla cooperativa agora croton l'evento è stato organizzato nell'ottica dell'interazione tra i migranti e gli agenti che quotidianamente espletano le pratiche dei richiedenti asilo il risultato è stato di 5 a 3 per l'ufficio immigrazione la partita è stata giocata con molta partecipazione e sportività da entrambe le squadre per questo non si è avvertito uno spirito di competizione l'occasione è stato un momento per stare insieme in serenità la cooperativa agora croton ringrazia il questore di crotone per aver dato parere favorevole all'iniziativa i sei agenti e gli ospiti del centro che hanno giocato un ringraziamento anche al comune di crotone per la messa a disposizione della struttura sportiva il centro commerciale naturale di crotone nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta l'altro ieri ha presentato la manifestazione Vivi Crotone che si terrà domenica 24 aprile in piazza Pitagora parteciperanno alla manifestazione tante organizzazioni il comune di crotone la camera di commercio l'azienda sanitaria provinciale la direzione scolastica il CONI la confricoltura ANGA col diretti CIA l'IRT cooperativa Salom consorzio Jobel Rotary cooperativa Shalom associazione itinerari le federazioni sportive nuoto tennis judo e karate le associazioni sportive Milan Runners club velico ciclistica caroleio team club pallavolo crotone verrà realizzato un villaggio dove diversi attori locali promuoveranno le loro attività affrontando tematiche riguardanti la salute la solidarietà il commercio il territorio lo sport e la cultura segno importante in considerazione del momento calcistico storico che la comunità cittadina di Crotone si prepara a vivere con grande intensità emotiva la conf commercio di Crotone promuove l'iniziativa alla vetrina rosso blu tutti gli operatori sono dunque invitati a creare una vetrina allestita con i colori della squadra della città i tre allestimenti più belli verranno valutati e premiati da un'apposita commissione costituita presso la conf commercio di Crotone una sciarpa del Crotone per Papa Francesco è il titolo di una foto postata sul profilo facebook dell'FC Crotone questa mattina durante l'abituale udienza generale della mercoledì alcuni ragazzi della scuola elementare Maria Montessori di Crotone presenti in piazza San Pietro hanno donato una sciarpa rosso-blu al passaggio della Papa mobile a Papa Francesco l'immagine è curiosa e arriva direttamente da Roma lo scatto di Antonio Paluccio ritrae il momento della consegna con il sommo pontefice che sorride e sventola la sciarpa ed ora vediamo alcuni appuntamenti previsti per domani giovedì 21 aprile alle 10.30 presso la biblioteca dell'ospedale di Crotone conferenza stampa di presentazione della manifestazione il circo in pediatria l'istituto comprensivo di Crotone ha organizzato per domani un flash mob nell'area pedonale di via Vittorio Veneto dalle 17.30 alle 19 al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla richiesta dell'edificio del plesso dell'università convegno su salute e benessere psicologico e alimentazione si terrà alle 16 sempre di domani giovedì 21 aprile presso l'istituto Donegani di Crotone presso la sala consigliare del comune di Crotone alle 16.30 si terrà la presentazione del libro di Angelina Brasacchio racconti dal sud seminario informativo formativo per rivolte ai genitori dell'istituto comprensivo Rocca di Netto si terrà domani alle 17 nella sala consigliare appunto del comune e il titolo è digitalmente connessi parzialmente nuvoloso visibilità ottima e vento di 13 nodi il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 16 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 14 la minima ed ora il bollettino nautico del Marrione o tempo vento da nord a forza 8 in attenazione al settore ovest sereno poco nuvoloso visibilità buona male agitato in attenazione al settore ovest tendenza vento da nord a forza 8 sereno o poco nuvoloso bene informazione per oggi è terminata grazie per essere stati con noi vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci